Ciao a tutti, oggi vi presento un nuovo video in cui farò una review delle mie nuove cuffie della Wesk. Iniziamo a presentarle. Il modello è Oboe, il colore è verde scuro, golden, vedete che presenta parti in oro. Non si capisce tanto che è verde dal video, però è sicuro che verde è scuro, circa. Allora, questa cuffia presenta di un jack 3,5 mm, jack universale, quello che hanno tutte le cuffie, da 3,5 mm, placato in oro. Poi presentano di un cavo che sarà lungo almeno 20 cm e chiaramente, visto che è così corto, hanno fatto anche la prolunga, che sarà lunga più o meno 70 cm. Aspettate, eccola qua, l'ho appena attaccata, è molto lunga la prolunga. Allora, la cuffia è ottimale, è regolabile, si può alzare, regolare la lentezza, abbassare. È regolabile anche lo speaker, che si può inclinare e anche la banda sopra, che si può allargare, perché è davvero molto stretta lì. Ha un ottimo comfort, tutto indossata, davvero comoda e lo speaker presenta 30 mm, si, 30 mm e la cuffia ha una risposta di frequenza da 20 a 20.000 Hz, ha un'impendenza di 32, una sensibilità a 120 dB e davvero una cuffia davvero ottima, perfetta, tutti particolari, molto secondo me rigida, per cui è difficile che si spacchi. Allora, vi faccio vedere con la musica, si sente davvero alto, ci sono rimasto anche male, è incredibile. Allora, ecco. Sentite? Non si sente bene da voi, ma si fa bene, guardando, ma vi assicuro che è davvero alto il volume, è incredibile. E se si mette all'orecchio si sente davvero bene e davvero forte. Per cui devo dire che vi consiglio di comprarla, perché è una cuffia davvero ottima, è una buona marca, la WESC, infatti va di moda soprattutto. io non capisco perché c'è gente che le compra solo per andare in giro, per mettersela al pollo. Spende 50 euro per gente, perché sono davvero fenomenali sentire la musica in questa cuffia. Grazie per aver visto il video, commentate e iscrivetevi. Ciao! Grazie! So! Grazie.